Tornerà ad essere aperta la città per il 2020 perché finalmente nelle prossime settimane partiranno i lavori di ristrutturazione messi in sicurezza della Chiesa della Conversione di San Paolo e di tutto il suo complesso. Lavori che non solo metteranno in sicurezza l'ex monastero dei Carmelitani Scalzi colpito duramente dal sisma del 2012, ma permetteranno anche opere di restauro che restituiranno la Chiesa ai fedeli e a tutti quei turisti che verranno a Ferrara. Opere di intervento per 2 milioni e mezzo di euro messe a disposizione dal Comune, dalla Regione, ma anche dal Ministero dei Beni Culturali, che ha acceso un capitolo apposito per i lavori di restauro del Ducato Estense, che comprende alcuni dei monumenti delle province di Ferrara e Modena. I lavori sono stati presentati questa mattina dall'amministrazione comunale nella Sala della Musica con la presenza dell'Arcivescovo Perego. In modo particolare in questo caso ci siamo concentrati per riaprire la Chiesa della Conversione di San Paolo, una chiesa che è stata colpita dal sisma, che era già chiusa prima del sisma perché c'erano una serie di problemi di tenuta delle strutture che si sono aggravate dopo il terremoto del maggio 2012 e che andremo a recuperare non solo da un punto di vista del suo consolidamento strutturale ma anche della sua fruibilità, ne miglioreremo l'illuminazione, andremo a migliorare anche naturalmente l'accessibilità e il suo inserimento nel contesto del centro storico. Il restauro, affidato a uno studio di esperti, la BCD Progetti, parte da un presupposto, restituire la Chiesa al percorso museale della città e sottolinearne il suo valore. La Chiesa, detta anche della Conversione, ha una lunga storia che parte dal 1295, anno in cui se ne vedono le prime tracce, ma poi subisce nel corso dei secoli diverse trasformazioni. Una delle più importanti è sicuramente quella dell'anno del grande terremoto di Ferrara, il 1570. È una chiesa che ha conosciuto profonde trasformazioni ed è da secoli sede di opere del Bastianino e di Guidoreni, oltre che del Bononi. Un vero e proprio scrigno chiuso da tanto tempo, che grazie all'intervento del ministro Dario Franceschini, sottolinea il sindaco Tiziano Tagliani, potrà riacquisire il suo valore originale. Sarà una grande sorpresa perché da tanti anni che è chiuso, come tutte le volte, i ferreresi rientreranno qui con la curiosità, con lo stupore che arriva quando uno rivede una cosa straordinariamente bella, così come la Chiesa di San Paolo. L'intervento inoltre prevede anche il restauro del refettorio, un'opera a carico dell'azienda che ha vinto l'appalto.